Una colonna di fumo alta a 4 metri, l'odore di carburante nell'aria, la strada semideserta e le persone assiepate ai bordi. Sembrava la scena di un film, invece era la realtà. Tragedia sfiorata questa mattina a Como in via Pasquale Paoli al distributore della Shell, dove un'autocisterna per il trasporto di gasolio e benzina è andata in fiamme all'improvviso. L'incendio è scoppiato intorno alle 10, per fortuna senza gravi conseguenze. Spaventati ma non feriti i due autisti del camion, completamente distrutta invece una vettura parcheggiata a pochi passi dalla cisterna. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con sei mezzi e una quindicina di pompieri. Sul posto anche asla di Como, polizia, carabinieri e agenti della polizia locale. L'incendio è partito dal bocchettone di scarico, evidentemente c'erano dei vapori di benzina, però comunque le cause sono ancora da accertare. Fortunatamente l'incendio ha coinvolto la parte della cisterna che conteneva gasolio, per cui diciamo che il pericolo dello scoppio sicuramente è più limitato rispetto alla benzina. Lei è stato il primo ad arrivare qui questa mattina, cosa ha visto? Verso le 10 ho visto una colonna di fumo, ho capito che c'era sicuramente un incendio. Appena ho visto la situazione che c'era un'autocisterna in fiamme ho completamente isolato la zona perché veramente penso che abbiamo sfiorato la tragedia da questo punto di vista sicuramente. Se scoppiava era una catastrofe. Intorno a mezzogiorno da Milano sono arrivati anche gli uomini del nucleo NBCR, gruppo specializzato che interviene nei casi in cui sono coinvolte sostanze particolarmente pericolose per il travaso del carburante. Tanta paura anche fra gli abitanti e gli esercenti della zona, in qualche caso allontanati dall'attività troppo vicine all'incendio. Abbiamo visto del fumo nero e siamo subito corsi fuori. Nel correre fuori ci siamo accorti appunto di quello che stava succedendo e abbiamo subito pensato di chiamare i vigili del fuoco. E poi non siamo più riusciti a entrare nel bar fino a poco fa. La mia profonda paura era che scoppiasse veramente la cisterna perché sarebbe venuto giù il mondo. Poi c'erano delle esplosioni ogni tanto perché chiaramente saltavano i pneumatici del camion e delle macchine lì vicino. È stato abbastanza traumatico diciamo. In queste ore intanto alcuni residenti hanno scritto a sindaco questore e responsabili dell'ASL per chiedere più sicurezza annunciando anche una raccolta firme. E mentre in via Pasquale Paoli si sfiorava la tragedia, nel resto della città il traffico andava in tilt. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione cittadina legate alla chiusura della strada per consentire l'intervento dei pompieri. La zona sud è rimasta bloccata per ore con code lunghissime. Gli stessi vigili del fuoco hanno subito conseguenze con un mezzo coinvolto in un incidente. Ferito ma non gravemente un pompiere di 46 anni, residente al Giatecomasco. Già dimesso dall'ospedale Sant'Anna, per l'uomo la prognosi è di sei giorni. La situazione è lentamente tornata alla normalità intorno a mezzogiorno con la riapertura graduale di via Pasquale Paoli.